l'ireno è in mezzo quindi faccio questo posso fare l'inizio che poi non so più allora ciao benvenuti in questo nuovo video noi siamo la ginnassa del csv e oggi faremo un video bellissimo faremo un video nuovo che abbiamo inventato io e la padda oggi mentre eravamo alla trave grazie alla claudia allora praticamente la claudia ha inviato alla padda un video dove ci sono un sacco di elementi di collegamenti per il pezzo terra alla trave strani difficilissimi quindi noi oggi andremo a sceglierne qualcuno e proveremo a farli buona visione guardate che non c'è il tempo no già l'altra volta mi tenevo rischiato di morire buona visione vai 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 sei la prima a provarla ok così è vero brava vai cami puoi mettere un aspettative versus in realtà ok ci sono vai vai aspettative 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 sii parti parti dall'altra parte camisa vai michael non posso rivedere allora intanto vado a qualcuno devi solo girare sul sedere e devi partire con le mani sull'altra parte questa è giusta come uscita questa è giusta come uscita e poi da lì salto indietro oh wow ahahah 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 ma dovevi partire dritta sulla trave perchè la fada lo rifà ahahah 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 dai michi ahahah ahahah eccola leticia io voglio fare una cosa dai brava ah 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 rosita scusami rosita micchi dopo vieni con me che dobbiamo provare qualcosa oh dai prova vieni micchi benzo lei l'ha fatto micchi micchi vai devo fare una cosa vai vai mettiti su prova a farlo no ma hai sentito a farlo parlo non parlo tanto la tizia sta guardando gli altri micchi brava micchi bravissimo bravissimo aspetta vieni qua vai ah è vero che non ti prendo brava cinzia cinzia ma io non riesco a girare non la parli con la mano una davanti alla mia ma ah ho capito bravissimo sembrava un salmone come la farda secondo proviamo il secondo vediamo vediamo ok 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 ora ora apposta da dentro e sulla devi girarti lascia questa gamba girati posa piega una gamba ok no manca un pezzo devi girare e fare così ahahah ahahah e vabbè brava micchi micchi voglio vedere il tuo io non lo faccio non è più vedere la mia mia ciber perché è ben gozzo no io no grazie grazie ok ok giro 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 non va volevo spingersi che cosa ok devo girare dai devi sfrustare col braccio devi sfrustare sfrustare sfrusta con la gamba vai ok dai tentativo fall ancora mi si sta sciogliendo la tua cicca in mano brava eccolo cosa e poi entra in what up ecco quella gamba di lì tadan chi tocca eh va bene vado io no non tu perchè tu filmi no le sono capace no le sono capace no le sono capace basta io non so fare nemmeno la frontale sulla trame infatti ci sono malissime c'era solo qua oh no scusa ciao sania ciao sania ah ho rischiato di morire hai rischiato di morire hai rischiato di morire da che parte sei entrata io così che parte brava brava ci eri qua brava mi sono scrucchiata tre vertebre ok chi tocca? voglio farlo io brava stai vicino anche a me dopo per favore non devi fare ma stai vicino se saprei morire aiuta non fada anche tu devi girare di qua con questa? no io devo girare di qua fada prima sali si sali prima in frontale appoggia la pancia ok gira gira brava vai 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 con l'aria agganciati piega quella sopra ok e poi dove quella raga non abbiamo capito il finale tira un attimo il finale praticamente devi rientrare qui tranquillo tira agganci 50 50 24 puoi provare male no no diamo mano va avanti capi piedi capi capi alla fine pinca asi hai una ventana? si no 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 e anche io devo girare a sinistra mamma però non abbiamo fatto giusto è perché giriamo a destra quindi lei è sinistra e deve agganciare a quello ma perché vai giù girare ok piega raga no aspetta piega non sta qui ora giro la sua GRATE brava Leticia come me ha fatto praticamente non devi lasciarti andare qua stavo facendo la falda stavo facendo così guarda che ho filmato bene io cosa fai? ora devi mettere il braccio come faccio mettere il braccio? così brava piega ok ora stendi gira a come faccio io sì brava intanto dietro c'è un Eliana che ci sta fissando ciao ciao Elie cosa leggi? cosa leggi? la rosa sta andando sì la sta filmando cosa leggi? questa fa vanno troppo ah vai Rosita così piega la gamba sopra brava brava ora sgancia tira oh mamma no stai così stai così stai così brava Rosita la abbiamo fatta tutte no manca la Martina vieni Napoles Napoles fai vedere la forza di Napoli 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 vabbè fai vedere la forza di Napoli Martina Napoli ho capito ho capito no se destra si no ok dove vai? brava forza di Napoli ha fatto ha fatto cabum siamo sicure di che possiamo farle queste cose ok la Martina si arrende e allora scegliamo il terzo l'abbiamo fatta tutte? attenta Irene allora già il fatto che devo farla con qui ora c'è no non ci voglio solo per la cabiglia no 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 non so non sia non so non ci voglio solo per la cabiglia non si ma è bellissimo c'era qualcosa c'era la giusta si si ma hai scoputo la sapattata per cosa ho avuto ma ho solito perchè sopra però sto andando avanti ma ho paura a fare la capriola dai avvenzio le macchie Ottimo, dovremmo iniziare Vai Vai Oh Anche le tue Amma Mi fai assistenza? Sto vicino? No Io ci vedo Sto Niente, vai, vai No, lei tiene il tempo Adesso che ne sicuro non l'avrei bisogno Sei sicura? Bene, adesso si conoscerà Vuoi che filmo io? Non vuoi Brava Guarda, ti abbiamo Ma perché? Guarda, sei un po' davanti Guarda, sei un po' davanti No, c'è Ire Ire, Ire, parti con i piedi Non in ginocchio, ok Io l'ho fatta lì oggi Io l'ho fatta lì oggi Io l'ho fatta lì Io l'ho fatta lì No, ce l'ho fatta lì Ce l'ho fatta lì Occhio che se schiazzi mentre le Ho fatto un po' ragazzo Sì, ma ti dico sull'occhio che se schiazzi quando lei sta cadendo le spezza una kappa Ma come qua non stanno muovendo? No, lei Mi piace Vai piano, Ire, non ti serve tutta quella velocità Piano, brava, 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 brava C'è te? Brava Ora tocca Ma come facciamo? Ma ti ha schiacciato la mano? Oh no, ti è rimasta incastrata Io eh, ma non lo voglio fare È possibile che non posso Lo sto per morire però Sì, va bene Ma guarda che sei in cerce Ma ho paura che mi faccia una peglia No Ah Ah Ha fatto ancora fare la serpa Certo Perché la Fadda è quella che ha inventato tutti questi collegamenti Certo, come no Lo stanno da te Allora viene perfetto Esatto Fadda, non si devi lanciare Non devi avere velocità Guarda che... no No Fadda, ma parti con i piedi, non con le giulocchia No No, no Piano Piano Pianissimo Devi andare a rallentare Piano Vai, ora aspira i piedi Ah no Bravo E' tu l'hai fatto Sì no? No, io l'ho fatto C'è stilo Vai che ti sto vicino O in caso di pipì O in caso di pipì Lessi Continuare Ma L'hai visto? 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 Takaaa Qui Piano Oh Piano, brava 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 Ma? Vai fuori Ispirare Poi arriva Vai Sìììììììììììììììììī èìììììììììììì la rosa non l'ha fatto vieni rosa non lo vuoi fare? ho paura siamo arrivati alla fine del video speriamo che questo video vi sia piaciuto e lasciate tanti like se non l'avete ancora fatto se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e lasciate tanti like vi lasciamo i nomi di instagram in descrizione seguiteci anche lì e niente arriviamo a quanti mi piace? arriviamo a 2000 like e facciamo la stessa cosa ma con le entrate strane va bene mi piace al prossimo video adios vai rosa